L'incontro di questi giorni è stato anche l'occasione per molte università europee di studiare il caso di Padova. Questa study visit è stata organizzata proprio a Padova perché Padova è stata considerata un modello da questo punto di vista. È stato un momento anche di confronto per gli stessi atenei europei che hanno potuto discutere, intervenire, capire e cercare di conoscere di più della nostra università. Quali elementi più importanti sono emersi? Su questo farei una premessa per arrivare alla risposta. La premessa è che questa visita di studio non è un'iniziativa dell'università di Padova, è un'iniziativa di UMaine che è un'associazione di head of universities, vengono chiamate dentro l'associazione, quindi di responsabili delle università, quindi direttori generali ma anche dirigenti o direttori amministrativi. Quindi questa visita è stata proposta da loro quando hanno conosciuto dentro i network professionali europei che sono attivi il percorso che stavamo facendo. Per questo era una visita a numero chiuso perché rientra nel programma delle study visit, delle visite di studio dell'associazione che prevedono un forte dibattito e una visita di studio. Quindi ci sono percorsi che hanno 20 partecipanti. Di questi 20 partecipanti nel nostro caso circa 18 provenivano da tantissime università europee, Regno Unito, Svezia, Danimarca, Germania, Francia, Spagna, Lituania, Cipro e poi ci hanno riservato quindi un certo numero di posti che potevano servire a persone dell'Ateneo e noi le abbiamo scelte con questo criterio. Lo dico perché ho letto qualche piccola polemica da questo punto di vista che sono state scelte con questo criterio, ovvero sono tutte persone che hanno fatto interventi e quindi hanno presentato l'esperienza insieme a me durante la visita. Quindi oltre a me, al professor Parbonetti e al professor Gubitta, il professor Parbonetti è delegato e progettore all'organizzazione dei processi gestionali, il professor Gubitta ha seguito un po' la parte più formativa e di soft skills per il percorso che stiamo facendo adesso con i dipartimenti e quindi ha conosciuto e poi aveva fatto un articolo sul job posting e quindi abbiamo pensato di coinvolgerlo. Abbiamo coinvolto due dirigenti che hanno fatto interventi insieme a me, il dottor Porzonato e la dottoressa Cremonesi e poi due capi ufficio. Tenete presente che tutte le giornate la lingua ufficiale era l'inglese, quindi ovviamente due capi ufficio, la dottoressa Furlang, la dottoressa Costanza e un capo settore che è stata la dottoressa Benedetti, scusate, la dottoressa Zatti. Fatta questa premessa, quindi non era un momento gestito da noi, ma era un momento dell'associazione e arriviamo a rispondere alla domanda perché effettivamente c'è stato un forte confronto durante le tre giornate, sia durante gli incontri, sia per i momenti in cui siamo stati insieme, per la visita all'Orto Botanico, al Palazzo del Boe, durante le colazioni e le cene che sono state fornite da U-Main, dentro i locali nostri però. Cosa ci hanno detto? Due cose fondamentali. La prima è che sono rimasti impressionati per la lucidità, la chiarezza e anche la velocità con il quale è stata implementata una riorganizzazione. Perché questa è stata un'organizzazione implementata in un anno, perché così velocemente in un anno? Perché se ne parlava già da tre anni e quindi c'era esigenza di doverla chiudere. Però la fase implementativa di un anno è stata considerata come un outstanding, come velocità di realizzazione. Su questo ci hanno fatto tantissime domande. La seconda cosa che è stata notata da tutti, e questo mi ha fatto molto piacere, è la compattezza della squadra, che ha portato avanti insieme a me la preparazione dell'incontro. e questo è stata una cosa che a me ha fatto molto piacere, ma che ha colpito molto. Poi nel merito ci hanno detto alcune cose molto concrete. La prima è che con le condizioni al contorno che avevamo, probabilmente il tipo di organizzazione che è stata messa in essere era forse la migliore fra le possibili che potevamo adottare. Poi ci hanno dato alcuni consigli dalla loro esperienza per il futuro. Il primo è l'attenzione all'overload, diciamo il termine, ovvero al sovraccarico di lavoro nel momento in cui c'è un processo di trasformazione così impegnativo in corso, ma c'è anche l'esigenza di tenere in efficienza tutto l'ordinario. e questa è una preoccupazione molto vera ed è anche mia. La seconda è un'attenzione da dare con un programma di medio e lungo periodo alla system integration, ovvero all'integrazione dei sistemi informatici. e questo è una cosa che condivido, è vera, ci stiamo già arrivando, abbiamo già fatto dei passi concreti importanti, avendo creato, cosa apprezzata da tutti, un'area dell'amministrazione centrale che si occupa di ICT, mentre prima c'era un centro di Ateneo che era scollegato, diciamo, da una... non era un braccio operativo e quindi rispondeva a logiche assolutamente legittime e che hanno prodotto anche dei risultati nel passato, ma comunque diverse, non adatte a un processo di trasformazione per la quale l'informatica ha un ruolo importante. e questo è una cosa che condivido nel senso che stiamo lavorando per rendere più efficienti e compatte le procedure informatiche in modo che le base dati siano uniche. Passando da tante base dati che ogni area, parliamo dell'amministrazione centrale, si è data, ma questo è un problema generale per l'università perché abbiamo tante strutture e tutti hanno i loro database, però i database non si parlano. Quindi l'idea di avere un data warehouse, un'attività di system integration va progettata e incorporata dentro un piano di medio periodo. Questa è un'osservazione giusta che ci è stata data. L'altra osservazione che ci è stata data riguarda un'attività che non appartiene alla sfera gestionale, ma che è stata considerata che di fronte ad un processo di trasformazione così profonda dell'amministrazione centrale e dei servizi comunque, perché poi dei servizi amministrativi, dei servizi di supporto, vi è probabilmente anche la necessità di una semplificazione delle procedure, non solo da un punto di vista formale, ma anche delle regole generali che è la nostra università, che ha uno statuto e un regolamento generale di Ataneo molto articolato e quindi a volte non perfettamente allineato, a volte anche per niente allineato rispetto ad un processo di snellimento della macchina amministrativa, della macchina gestionale. Direi che queste, andando un po' a memoria, sono state le osservazioni principali emerse nel confronto. Ho avuto anche dei feedback poi con i colleghi dopo qualche giorno, per mail, questo ha aiutato a creare una rete, che sono dei feedback positivi a distanza, questi sono importanti anche sul fatto che abbiamo parlato con sincerità, abbiamo raccontato la nostra esperienza, abbiamo raccontato i punti di forza, anche le cose che abbiamo imparato in questo processo e questa trasparenza e completezza di informazioni è stata molto apprezzata anche per la loro stessa esperienza, la loro possibilità poi di applicare o comunque considerare alcune cose che sono emerse dagli scambi avuti anche nelle loro università. Uno di questi è il collega di Amsterdam che mi ha chiamato ieri dicendomi queste cose. Sono cose che fanno piacere perché aiutano a capire che viaggiamo in un contesto più ampio a livello europeo e che le questioni che affrontiamo noi in realtà sono questioni che vengono affrontate anche da altri. Direttore, l'Università negli ultimi anni sta lavorando a un processo di trasformazione che sta interessando soprattutto l'organizzazione tecnica e la gestione amministrativa. Quali sono i punti principali attorno a cui si sta consolidando questo cambiamento? Il cambiamento è un processo di transizione che è stato lanciato dal Rettore, dal Consiglio di Amministrazione. Una delle chiavi fondamentali per il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dell'Ateneo è mettere a punto la macchina organizzativa. Secondo un'idea di fondo che è stata dichiarata e che io condivido molto è che il personale tecnico-amministrativo gioca la stessa partita del personale docente nella realizzazione degli obiettivi dell'Ateneo. Quindi è la stessa squadra con ruoli diversi ma che gioca la partita. C'è una parte che gioca la partita e l'altra parte che sta al di fuori del campo a svolgere altre funzioni. E questo è ben chiaro a livello europeo perché tutte le università europee e mondiali hanno sviluppato negli ultimi anni, negli ultimi decenni in modo importante la qualità e l'efficienza dei servizi di supporto. Questo si capisce anche bene per avere un esempio come è importante avere dei servizi di supporto che funzionano e che lavorano in maniera coordinata e in stretto coordinamento con il personale docente, tant'è che non si capisce più dove comincia un ruolo e dove finisce l'altro nella presentazione e nella vincita dei progetti europei. Il progetto europeo, la ricerca di oggi, non ha solo più un contenuto scientifico ma deve avere delle caratteristiche che ne descrivono il business model, la tecnicalità con la quale si fa un progetto, ci vuole una squadra per vincere. Con questa premessa il processo di transizione è un processo di transizione che vuole e tenta di allineare l'organizzazione alla strategia. Quindi cambiando e modificando la cultura, questo richiede tempo, richiede anni, i colleghi europei ci dicevano richiede decine d'anni ed è vero, ma cambiare la cultura vuol dire quello che dicevo prima, avere la consapevolezza che non c'è solo un adempimento o una macchina molto fordista, una catena di montaggio che fa delle cose molto operative che pur esistono e vanno fatte bene, ma che il personale tecnico-amministrativo deve avere la capacità, per questo va anche rispettato, anche se ci vuole del tempo per arrivare all'obiettivo, perché è un bene per l'università deve avere la capacità di mettere in campo le competenze per cogliere e raggiungere l'obiettivo finale in modo più facile, in modo più efficiente. Questo è il cambio culturale. Per fare questo abbiamo bisogno di un'organizzazione più flessibile, più mobile. L'organizzazione è come un vestito, se cambia la stagione devi adattare il tuo vestito. Ovviamente la stagione non deve cambiare, diciamo così, troppo spesso, però le cose intorno a noi sono cambiate velocemente, pensiamo ai cambiamenti climatici, la società cambia e per far questo occorre quindi modificare i processi, il modo in cui facciamo le cose e occorre modificare e arricchire le nostre competenze, che sono le quattro dimensioni per le quali sta muovendo il processo di trasformazione, che ha riguardato in prima battuta, in maniera più formalizzata, ma non solo, in realtà, l'amministrazione centrale. E questo è il focus che abbiamo dato all'incontro dei tre giorni, che abbiamo chiamato Making Positive Change Happen, The Organization of Turnaround e The University of Padua. Era focalizzato all'amministrazione centrale, ma stiamo in collaborazione con i dipartimenti, con i direttori, con i segretari, proprio studiando il modo per estenderlo ai dipartimenti e anche alle altre strutture dell'Ateneo. Per esempio, una di queste che è già stata interessata dalla trasformazione organizzativa è stato il sistema bibliotecario dell'Ateneo. Quali sono i risultati più importanti raggiunti in questi anni e qualche numero anche che ci possa raccontare la misura, la realtà di questi cambiamenti? Ma la storia dell'Ateneo è una storia bellissima, quindi è positivo avere una grande storia, una grande tradizione, anche perché ci aiuta a capire un po' meglio qual è la nostra missione. Quando noi diciamo universo, universis, patavina, libertas, adesso si vede un po' meno perché diciamo in Aula Magna c'è spesso lo schermo che è tirato giù, quindi non si vede. Ma diciamo una grande missione dell'Ateneo, questo moto è molto importante che ha bisogno di essere declinato poi anche nel lavoro di tutti i giorni. Questo è uno dei motivi per i quali in amministrazione centrale abbiamo declinato questo motto in una dichiarazione di valore, nel mio modo di tradurre il termine anglosassone mission che è un po' freddino, che è appunto lo scopo dell'amministrazione centrale. che è quello di valorizzare le competenze, raccogliere le aspirazioni e rimuovere le barriere burocratiche che sono di ostacolo. Questa è la mission che abbiamo dichiarato in amministrazione centrale. Quindi diciamo la sua domanda è come ci si arriva, no? Quindi come si arriva a questo? Innanzitutto lo scopo fondamentale era quella di dare maggiore trasparenza la struttura, in modo da capire immediatamente cosa fanno le varie parti della struttura stessa, senza dover sapere, e questa è un'informazione molto interna, il nome della persona, ma lo fa Tizio, questo è il numero di telefono. No, in una struttura moderna si deve capire immediatamente cosa fanno le parti di organizzazione, dove stanno le responsabilità. Quindi questo era il primo obiettivo. Il secondo obiettivo era quello di ridurre la frammentazione delle attività. Frammentazione delle attività vuol dire due cose, che una risposta arriva dopo tempi troppo lunghi e soprattutto che nessuno è mai responsabile del contenuto di quella risposta. ridurre la frammentazione voleva dire appunto accorpare di più le attività e chiarire le responsabilità. Questo ha voluto dire due cose, ridurre il numero di unità organizzative, come c'erano 52 servizi, ora ci sono 36 uffici in amministrazione centrale, e chiarire e mettere i processi, le attività al posto giusto, in modo che i processi siano collegati a delle unità organizzative, le abbiamo chiamate settori, che sono delle parti degli uffici che hanno la responsabilità di processi che sono fra loro vicini. Ciò non vuol dire che un processo oggi non attraversi più uffici, ma ne attraversa meno, e abbiamo chiarito di più attraverso un'analisi dei processi dove stanno e dove stanno le responsabilità, dove finisce la responsabilità di uno e dove comincia la responsabilità dell'altro. Quindi la riduzione della frammentazione è stato il secondo grande obiettivo della trasformazione. Il terzo grande obiettivo è stato quello di dare la possibilità alle persone di talento, dovunque esse fossero, di poter acquisire dei ruoli di responsabilità. Una delle cose meno positive, anche se vanno comprese e capite, era che le responsabilità nel tempo non erano mai state messe in discussione e quindi c'erano persone che da 10, 15, 20 anni avevano delle responsabilità, questo è anche un risvolto economico, che erano assegnate alle persone, quando le persone si muovevano se le portavano dietro e questo aveva portato un po' di confusione perché poi c'erano persone che facevano lo stesso lavoro ma avevano un trattamento economico diverso. La terza dimensione è stata quella di collegare le responsabilità non alle persone ma ai ruoli organizzativi, quindi agli uffici, ai settori e dare la possibilità attraverso un job posting, quindi una procedura aperta a tutti, di segnalarsi e di essere valutati attraverso un CV presentato, attraverso dei colloqui che sono stati fatti con persone selezionate, fra l'altro colloqui fatti in inglese anche per dare il sintomo di un'università che sta cambiando. Questa ritengo sia stata una cosa nuova, fra l'altro molto apprezzata anche con curiosità e interesse dai nostri colleghi europei. E infine direi l'ultima novità del processo riorganizzativo è stato un lavoro sulle, adesso queste cose devono tenere conto non solo dell'organizzazione, dei processi, delle cose più tecniche ma anche delle competenze che hai, delle competenze delle persone. Per cui quando l'organizzazione è stata progettata ad ogni ruolo sono stati studiati anche con l'ausilio di qualche aiuto esterno che ti aiuta a mettere a fuoco un po' meglio il sistema, quali erano le competenze attese? Non solo in termini verticali, ovvero mi serve un legale, mi serve un contabile, mi serve un progettista europeo per i progetti di ricerca, ma trattandosi di responsabilità anche in termini di competenze orizzontali, la capacità di leadership, la capacità di coinvolgimento, la capacità di intrattenere relazioni, la capacità operativa di problem solving, queste competenze sono state dichiarate. Quando è stato fatto il job posting ad agosto del 2017, oltre ad esserci la descrizione dei ruoli, delle posizioni, dei processi amministrativi e gestionali che afferivano ad ogni posizione, era dichiarato anche il ruolo atteso, le caratteristiche che doveva avere in termini di competenze verticali e competenze orizzontali e anche il livello economico della posizione come fascia di riferimento. Quindi è stato molto chiaro, molto trasparente e questa ritengo sia una cosa positiva e anche una cosa nuova.